Dividiamo 7182 per 42. La cosa nuova ora è che stiamo dividendo per un numero a due cifre, non più per un numero a una cifra, ma l'idea è la stessa. Quante volte il 42 sta nel 7? Non ci sta. Allora, quante volte il 42 sta nel 71? Ci sta una volta. Ma ricorda cosa succede in questo procedimento. Stai dicendo che il 42 sta nel 71 una volta, che in realtà è il 42 sta nel 7100 100 volte, perché l'1 è nel posto delle centinaia. Ma concentriamoci per un momento. L'1 per 42 fa 42. E ora sottraiamo. Forse sai fare 71 meno 42 a mente. 72 meno 42 fa 30, quindi 71 meno 42 è 29. Ma possiamo anche farlo con il prestito. Vuoi sottrare il 2 dall'1 e non puoi fare nel modo tradizionale. Quindi prendiamo il 10 dal 70, che diventerà 60. E diamo questo 10 al posto delle unità, che quindi diventano 11. 11 meno 2 fa 9 e 6 meno 4 fa 2. Quindi otteniamo 29. E possiamo abbassare la prossima cifra. Abbassiamo l'8 e qui entra in gioco l'arte della divisione dei numeri a due cifre. Dobbiamo fare una stima di quante volte il 42 sta nel 298. E a volte capita di dover fare più tentativi. Devi dare un'occhiata, provare e riprovare. Ci sta 9 volte. Fai 9 per 42 e viene un numero più grande di 298. Allora è troppo. Ci sta 3 volte. Fai 3 per 42 e ti viene un numero qui. Ma quando sottraio ottieni qualcosa che è più grande di 42. Allora non va bene neanche questo. Vediamo. Il 42 è circa 40 e il 298 è circa 300. Quindi 40 nel 300 come 4 nel 30 circa 7. Vediamo. 7 per 2 è 14. 7 per 4 è 28. Più 1 fa 9. Ok ci siamo andati vicini. Quindi il resto. Guarda. Il 294 è minore di 298. Quindi va bene. E il resto è minore di 42. Anche questo va bene. Ok. Ora mettiamo un'altra cifra. Abbassiamo questo 2 qui. E qui ci chiediamo. Quante volte il 42 sta nel 42? Beh 42 sta nel 42 esattamente una volta. 1 per 42 è 42. E non abbiamo resto. Perciò fortunatamente la divisione viene senza resto. Il 42 sta nel 7182 esattamente 171 volte. Grazie a tutti.